8 marzo qui a San Michele di Bari un incontro sul tema donne in agricoltura criticità e opportunità in questa occasione la giornata in cui si celebra la festa della donna ma noi vogliamo soffermarci prima di tutto su di un aspetto questo fatto di aspettare l'8 marzo per ricordarsi che la donna è importante e rilevante da tutelare, salvaguardare, da tenere in considerazione mi sembra un po' come secondo lei, mi scusi la provocazione ma è d'obbligo condivido con lei effettivamente poi essendo anche io donna ricordarsi della donna l'8 marzo credo che ma ormai è come un appuntamento del calendario, come un'altra festività, come tante festività quindi è l'occasione per celebrare la donna che ormai è una figura importante in quelli che sono tutti gli ambiti della nostra vita dalla vita familiare alla vita quotidiana, alla vita lavorativa, perché no anche alla vita politica non a caso le donne, le palla che oggi riveste anche la qualifica di assessore ormai cominciano ad emergere anche nella vita amministrativa e nella vita politica certo la donna è ormai anche frase fatta, va rispettata tutti i giorni dell'anno però è un momento comunque per sottolineare proprio una figura che è un perno in tutte quelle che sono le attività che si svolgono quotidianamente forse perché la donna è anche più intraprendente, ha la sua tenacia e quindi la donna è anche determinata nelle sue convinzioni, in quelle che possono essere le proprie aspettative Veniamo quindi al tema di questo incontro, donne in agricoltura, perché questo comparto? Il comparto, io la delega assessorile dell'attività produttiva e dell'agricoltura è nata una bella collaborazione a fine novembre, anche con la Confagricoltura quando abbiamo organizzato la prima fiera dell'agricoltura a San Michele e quindi ci siamo rivisti con la collaborazione appunto della Confagricoltura stasera abbiamo organizzato questo evento perché il comparto comunque agricolo per San Michele come per tutto il comprensorio il nostro comprensorio è un comparto importante per quella che è l'economia del nostro territorio ma è anche un comparto di cui oggi si parla, si parla molto sicuramente stiamo tutti seguendo quelle che sono le vicissitudini proprio dove il mondo agricolo è senza alcuna distinzione di sesso perché qui si sono mossi tutti gli uomini e le donne sta rivendicando quelle che sono le proprie peculiarità e il riconoscimento della propria produttività ed il ruolo proprio di attività primaria nell'ambito della nostra economia non dimentichiamo che San Michele non ha solo l'attività enogastronomica di cui noi molto spesso parliamo ma ha aziende agricole di un certo rilievo e di una certa importanza che oggi comunque stanno pagando anch'esse lo scotto di un momento particolare per il mondo economico e agricolo soprattutto Non possiamo dimenticare che il nostro habitat naturale noi veniamo di lì, dalla terra sì, la terra ci dà il piccolo fiorellino ma ci dà anche dei prodotti, dei gusti inconfondibili e difficilmente trasmissibili attraverso il mezzo televisivo che ognuno può interpretare nel momento in cui assapora ma che cosa? La fatica di chi tutti i giorni coltiva i campi quell'agricoltura che oggi soffre perché forse sono sempre meno i giovani che vogliono farlo o qual è proprio la criticità o le criticità? Quali sono? Sono sempre meno i giovani anche che vogliono fare perché il mondo agricolo come dicevo prima nel mio intervento è stato un attimino lasciato a se stesso se lei pensa che in regione sono fermi milioni e milioni di euro il PSR è fermo quello significherebbe liquidità immessa nell'economia e quindi significherebbero anche numerose giornate lavorative sia per i datori stessi di lavoro che per i propri collaboratori quindi è venuto a mancare proprio questo rapporto di collaborazione tra quello che è il mondo agricolo stesso e il mondo istituzionale con cui invece dovrebbe andare a braccetto perché se sono ferme queste misure che comunque non è solo assistenza perché a volte si confondono le misure di sovvenzionamento come assistenza ora l'agricoltura non ha bisogno di assistenzialismo in questo momento l'agricoltura ha bisogno di collaborazione e se tutte queste situazioni si sbloccassero perché ci sono delle misure veramente interessanti che vanno dalla rivalutazione del territorio alla promozione dei prodotti alla cooperazione tra le aziende io penso che il circuito agricolo potrebbe nuovamente ripartire e molti giovani e anche donne si avvicinerebbero nuovamente anche perché tutti hanno in famiglia delle situazioni perché il nostro territorio è molto frazionato qui non abbiamo grosse proprietà terrieri ci sono dei territori abbastanza frazionati ecco già nel momento in cui si valutassero e si supportassero anche le collaborazioni tra gli stessi agricoltori l'associativismo sarebbe anche diventeremo più competitivi anche in quel mercato che oggi sconta pure la concorrenza dei mercati esteri non solo europei ma anche del nord mediterraneo perché anche là non dimentichiamo noi scontiamo prodotti che arrivano dall'estero e che dove i nostri prezzi purtroppo soffrono la concorrenza di questi prodotti quindi non sono competitivi sul mercato sono tanti fattori che oggi purtroppo stanno allontanando molti dal mondo agricolo perché è vero che la fatica però se la fatica poi non corrisponde almeno il non dico l'auti guadagni ma almeno quelli che dovrebbero essere la copertura dei costi sostenuti beh io sfido chiunque a restare a coltivare i campi quindi a fare gli agricoltori oggi giorno è sempre più importante non tra virgolette interpretare gli interessi della comunità dei cittadini e quindi degli stessi agricoltori ma rappresentarli e quindi questo tema diventa importante e sta ad indicare anche che bisogna parlare la stessa lingua altrimenti la politica difficilmente potrà rappresentare gli interessi della comunità e quindi dell'agricoltura e provvedere con i propri provvedimenti a venire in conto a quelle che sono le esigenze la politica deve sapere ascoltare la politica deve ascoltare quelle che sono le problematiche immedesimarsi e farsene proprie ecco perché è importante anche l'iniziativa come quella di stasera che è un momento di formazione un momento di portare al mondo agricolo la conoscenza magari di situazioni che molti non conoscono e accendere quella lampadina per l'inventiva, per la promozione per poter mettere a frutto perché ci sono sicuramente tante professionalità ci sono tanti ragazzi anche diplomati, laureati ma anche se non hanno questo diciamo il titolo comunque hanno la conoscenza perché le conoscenze empiriche a volte è più importante anche con l'esperienza però c'è bisogno proprio come diceva lei di guidare o perlomeno di creare una sorta di rete tra gli stessi agricoltori e la politica che comunque a volte li deve anche seguire li deve anche coadiuvare in quelle che possono essere le loro iniziative per promuovere anche i loro prodotti quindi l'agricoltura come opportunità ma in che senso è stato elaborato oggi questo termine? Quali opportunità? Stasera noi abbiamo cominciato a parlare di alcuni bandi che al momento non sono ancora diciamo stati pubblicati ma come diceva il presidente La Cenere e lo stesso direttore Gianni Porcelli sono di imminente uscita purtroppo come voi ben sapete anche a livello regionale ci sono delle situazioni giudiziarie che bloccano e quindi purtroppo ci sono stati dei ricorsi che hanno bloccato molte graduatorie e si parla invece di bandi che potrebbero uscire a momenti si parla anche entro la fine del mese dove la possibilità di presentare da parte in questo caso degli agricoltori di progetti a sportello quindi significa essere già cantierabili in modo che le agricoltori avranno quindi la possibilità di subito poter mettere a frutto le proprie iniziative i propri progetti questo per quanto riguarda la regione stasera abbiamo parlato anche di bandismia che parlano sia del primo insediamento che del subentro nelle aziende che ne so figli che possono subentrare genitori o nonni anche la particolarità è quello il rischio tra virgolette che si tratta anche qua di bandia sportelice cioè una cifra ben determinata quindi che si esaurisce nel momento in cui arrivano determinati progetti che coprono quello che il montante ha a disposizione si parla sia di acquisto di macchinari di strutture come anche di impianti di nuovi frutteti certo in questo momento abbiamo anche quello che è il fenomeno che ci sta tannaleando un po' tutti quello della Xilella che sta bloccando molte situazioni anche a livello di nuovi impianti perché purtroppo noi ce l'abbiamo quasi alle porte come ben sa la mappa ha delimitato e le aree delimitate arrivano ormai a Putignano sono vicine ai nostri territori e qui la politica deve essere brava anche a fare in modo che con prevenzione questi territori non vengano in questo momento investiti da questo fenomeno perché lì altrimenti veramente la criticità dell'agricoltura aumenterebbe notevolmente la ringraziamo e le rinnoviamo la nostra disponibilità a utilizzare il nostro strumento la nostra emittente televisiva per divulgare quelle che saranno le prossime iniziative e quindi anche questi prossimi bandi che ci auguriamo vengano pubblicati al più presto Io ringrazio voi della presenza e della disponibilità e sicuramente vi investiremo ogni qual volta faremo delle manifestazioni perché è importante la divulgazione anche coloro oggi abbiamo la fortuna che con le reti televisive con i social insomma il mondo agricolo come tutte le attività possono essere raggiunte facilmente da notizie e informazioni grazie mille grazie a tutti